Breitling Premier, l'orologio che unisce stile ed eleganza. Il Breitling Premier è disponibile in cinque varianti principali. Breitling Premier B01 Chronograph 42, il modello base della collezione, dotato del calibro Breitling 01 con cronografo a due contatori e indicatore della riserva di carica. Il quadrante può essere nero, blu o argento con contatori bianchi a contrasto. La lunetta è liscia e la scala tachimetrica è impressa sul reo. Premier B09 Chronograph 40, il modello che si ispira maggiormente ai cronografi vintage degli anni 40 e 50, dotato del calibro Breitling 09 con cronografo a due contatori e indicatore dei secondi continui. Il quadrante può essere nero o verde pistacchio con contatori bianchi a contrasto. La lunetta è liscia e la scala tachimetrica è stampata sul quadrante. Breitling Premier B15 Duograph 42, il modello che presenta la complicazione più sofisticata della collezione, il cronografo a frazione di secondo, che permette di misurare due eventi simultanei con due lancette sovrapposte. Il movimento è il calibro Breitling 15 con cronografo a due contatori e indicatore dei secondi continui. Il quadrante può essere nero o blu con contatori bianchi a contrasto. La lunetta è liscia e la scala tachimetrica è stampata sul quadrante. Breitling Premier B25 Datora 42, il modello che presenta la complicazione più completa della collezione, il calendario completo con le fasi lunari, che mostra il giorno, il mese, la data e le fasi lunari in quattro finestrelle sul quadrante. Il movimento è il calibro Breitling 25 con cronografo a tre contatori e indicatore dei secondi continui. Il quadrante può essere rame o argento con contatori neri a contrasto. La lunetta è liscia e la scala tachimetrica è stampata sul quadrante. Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Leon Breitling. La cassa da 42 mm è disponibile in diverse opzioni, tra cui oro rosso 18 carati o acciaio inossidabile, per soddisfare i gusti degli appassionati di orologi di lusso più esigenti. Il cuore pulsante di questo orologio di lusso è il movimento B21, dotato di una complicazione di tourbillon. Ogni variante del Breitling Premier ha una sua personalità e un suo fascino, ma tutte condividono lo stesso spirito di stile ed eleganza con prestazioni che contraddistinguono la casa orologera Breitling.